Ben ritrovate nella cucina di Siamo Donne. Oggi prepareremo un pinzimonio con salsa orientale. Per prepararlo ci dovremo procurare dei ceci, dell'olio, del sale, del pepe, del prezzemolo, uno spicchio d'aglio, un limone e un po' di salsa di semi di sesamo. E poi delle verdure a piacere. Io in questo caso ho preso dei peperoni, del sedano, dei ravanelli, delle carote e un finocchio. Per pulire i peperoni eliminiamo la parte centrale che contiene i semi e i filamenti e li tagliamo a filetti. Tagliate le verdure, non ci resta che preparare la salsa. Metto nel frullatore quindi i ceci, un po' di sale, un po' di pepe. il prezzemolo, l'aglio, l'olio, il succo di limone e la salsa di sesamo. Se come in questo caso fosse troppo asciutto la preparazione, tenete sempre un po' di acqua di cottura dei ceci e la aggiungete per allungare la crema. ed ecco pronto il nostro pinzimonio. Il nostro primo amico freddo,